Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Ehm, scusate ma ho il microfono vicino perché mi si è quasi rotto Noi ci veniamo in questo video di uno offline Perché online non posso andarci, non so perché non va Quindi questa partita, per chi non conoscesse uno e mentre che giochiamo glielo spieghiamo Non lo anticipo perché mi serve Allora, allora intanto si può, vabbè si gioca così poi vedete mentre giocate Ehm, una cosa, io vi consiglio, cioè per voi Di condividere il mio nome, il mio canale a tutti i vostri amici che avete Oppure in un gruppo whatsapp con tante persone Perché almeno potete far divertire tutte le persone che I vostri amiche a guardarmi a me Così si divertono guardandomi Oppure guardano i video insieme a voi Oppure mentre non sanno cosa fare Quindi condividete il mio canale a tutti i vostri amici E se non siete ancora iscritti quindi voi iscrivetevi per forza al mio canale Comunque siamo su Twitch a buon punto con gli iscritti Tra un... Neanche tra tanto inizierò a fare la mia prima live su Twitch Su PS4 Infatti voglio che in questi video Sotto i giochi mi iscriverete Che gioco volete che faccio in live Perché io Se volete farò le live dove faccio le Bedwars Il Bill Battle Il Fortnite Dovete decidere voi In tutti questi video sotto nei commenti Perché io li vedo tutti i commenti E visto che non si possono più mettere i sondaggi Dovete voi Scriverlo nei commenti Mioppo non ha detto uno Dai Ma ti vedo rosso Mannaggia Cos'è? Le carte di tutti i giocatori verranno mischiate All'altra Ma io non ho messo queste carte qua Ma sì dai Cos'è sto rumore? Mannaggia il rumore No Ma... Sono bagno Avevo due carte Scusate ma io non so giocare tanto a uno Con questo nove carte Anche se non l'ho messa Però vabbè Si mettono da sole Mi dà che devo un po' abbassare il volume Perché mi sa che vi dà un po' fastidio Ecco qua ragazzi Spero che così vi sentiate meglio a vedere il video Perché non voglio che per voi sia uno stress vedere i miei video Metto così 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 è molto più bello Andiamo A me pare che non sia cambiato nulla Quindi ora lo abbasso ancora un po' lino L'ho basso proprio a zero a questo punto Perfetto Ora non si sente più nulla Quindi spero che a voi vada meglio così Nel caso volete altri video di uno Scrivetelo nei commenti Scrivete numero uno e il gioco Per il canale Twitch su cosa devo fare Numero due E il gioco Se volete che il gioco A uno Sempre Cioè No Però sempre Comunque anche a me Mi sta divertendo questo outfit Di fare sempre un video al giorno E io vi aggiorno Che oggi E domani pubblicherò Vabbè Oggi avete già notato Ma domani pubblicherò Due video Quindi Tra qui Uno è tutorial E l'altro Dove visito una cosa Quindi State attenti Iscrivetevi con la campanellina Per non perdere i miei video Perché quelli di domani Vi insegnano un botto di cose Che voi non avete idea Intanto Qui però Dobbiamo vincere la partita Vincere la partita Quanto sta durando Dimmi che non ha il più due Perfetto Uno Raga Ok mi hanno messo il blu Metti più due Dimmi che non ce l'ha Vinto Vinto Perfetto Raga Per questa volta Il video finisce qua Ho vinto E Vabbè Non devo più fare l'altro Perché Ve lo getto tutto In mezzo del video Noi ci vediamo al prossimo E non vi